Il progetto intercomunale di protezione civile della Val Pescara, nato nel 2012 con la partecipazione di 14 centri, cresce e punta a estendersi a tutta la regione Abruzzo. L'ambizioso progetto è stato presentato dall'Unione delle Provincie Abruzzesi, UPA, che ha chiesto un finanziamento ad hoc alla regione. Bilanci e prospettive sono stati al centro di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il presidente della provincia di Pescara, Guerino Testa, il presidente dell'Unione delle Provincie Abruzzesi Enrico Di Giuseppe Antonio, che è presidente della provincia di Chieti, il sindaco di Manoppello, comune capofila Gennaro Matarazzo e l'ingegner Carlo Maria Speranza, che sta seguendo il progetto sin dalla sua nascita. È un'utile intuizione quella del coordinamento dei comuni per la protezione civile ed è bene esportarla, detto il presidente dell'UPA di Giuseppe Antonio, anche perché è da vedere quale sarà il destino delle province. Abbiamo fatto un direttivo dell'Unione delle Provincie d'Abruzzo, tutti e quattro i presidenti sono d'accordo a estendere questa esperienza molto importante maturata dalla provincia di Pescara, che può essere utile per dare all'organizzazione della protezione civile una dimensione territoriale giusta ed equa, come è la provincia. In Abruzzo ci sono quattro province e un progetto di questo genere può obiettivamente migliorare la qualità del servizio di protezione civile in Abruzzo. Abbiamo dimostrato in questi anni, non solo in questo settore ma anche in altri, che le province riescono a contenere i costi, a fare sinergia tra loro e soprattutto a dare servizi efficienti ed efficaci a costi molto contenuti, anche rispetto alle regioni che invece hanno dimostrato poca oculatezza nella gestione del denaro pubblico.